La visita del Papa in Colombia ha un carattere essenzialmente pastorale, come del resto tutte le visite del Papa nei vari paesi, e quindi ha lo scopo, ha l'intenzione, diciamo, di incoraggiare, di confermare, di incoraggiare i fratelli nella fede, di vivificare la loro carità e di spronarli a vivere la speranza cristiana. Ma naturalmente si colloca in un momento molto particolare, ecco, della vita di quel paese, quando è iniziato un processo di pace dopo 50 anni di conflitti e di violenza. E questo lo rende particolarmente importante. Il Papa, appunto, come pastore della Chiesa Universale e come leader spirituale, vuole affiancarsi a questo processo, ecco, e incoraggiare questo processo, perché davvero, dopo tanti lutti, tante distruzioni, tante sofferenze, il popolo colombiano, la nazione colombiana, possa conoscere una nuova realtà di pace e di concordia. La pace è stata finalmente raggiunta, entriamo ora in una delle fasi più delicate. Quali sono gli aspetti ai quali la Santa Sede e la Chiesa Locale guardano e incoraggiano con maggiore attenzione? Entriamo nella fase dell'applicazione, perché non basta firmare un documento, certamente è necessario, è un passo necessario, indispensabile, ma evidentemente non è sufficiente. C'è tutto un cammino da fare a partire proprio dalla, diciamo, dalla firma, ecco, dalla sottoscrizione di questi accordi. Ed è un cammino che si deve compiere nella quotidianità, è un cammino che deve coinvolgere tutti e che deve coinvolgere tutto di tutti, cioè soprattutto il cuore e la mente. Io credo che il compito, diciamo, il ruolo, la missione fondamentale della Chiesa in questo momento sia quello di favorire la riconciliazione, ecco, direi proprio questo è il punto centrale. Mi pare che ce ne sia tanto bisogno, proprio perché la pace non sarà, diciamo, una realtà presente, una realtà viva ed effettiva, se non nella misura in cui ci sarà una riconciliazione all'interno del popolo colombiano. E naturalmente uno degli strumenti principali, ecco, di questa riconciliazione è la capacità del perdono, la capacità di dare e di ricevere perdono. Ecco, in questo senso è molto importante anche questo incontro che ci saranno a Viglia, Vicencio, l'8 settembre, che sarà l'incontro di preghiera per la riconciliazione nazionale. Qual è la vita della Chiesa oggi in Colombia? Ma io credo che si tratti di una Chiesa, una Chiesa viva, ecco, e di una Chiesa generosa. Io ho potuto anche conoscerla, se non direttamente, un po' indirettamente, avendo vissuto nella zona, avendo vissuto in Venezuela, che ha una lunga frontiera, ecco, dove ci sono continui contatti tra i due paesi e tra le due comunità ecclesiali. Una Chiesa viva e generosa che è vissuta in un contesto, appunto, di conflitto e di violenza che in parte l'ha colpita anche, no? Perché anche la Chiesa, lo ricordavamo un attimo fa nella figura di questi due pastori, ecco, ma che non si è lasciata intimidire, che non si è lasciata, diciamo, spaventare, impaurire e che ha continuato ad accompagnare i suoi fedeli quali si sono sentiti, appunto, molto incoraggiati, ecco, e sostenuti nella speranza proprio da questa presenza della Chiesa. Una Chiesa che lavora, lavora seriamente per la difesa e la promozione della dignità della persona e per la difesa e la promozione dei diritti umani, soprattutto attraverso le sue molte opere di carità e di solidarietà. Ed infine una Chiesa che deve fare anche i conti con un grande cambiamento nella società, come in tutto il mondo, quindi una Chiesa che si trova di fronte anche ad un contesto crescente di secolarizzazione e che quindi deve usare le risorse che sono state offerte ad Apparecida proprio per continuare ad annunciare con un nuovo ardore, con un nuovo vigore il Vangelo alla società di oggi. Il motto della visita è Facciamo il primo passo, un invito a tutti a essere missionari di riconciliazione. In concreto, come è possibile farlo, soprattutto pensando alle tante ferite ancora aperte oggi? Sanare i cuori, curare le ferite, no? Ridare speranza che poi è un po' come il carburante che alimenta un cammino concreto di riconciliazione e di pace. Questo motto mi pare importante perché è declinato al plurale, quindi coinvolge tutti, tutti devono sentirsi coinvolti in questo cammino, in questo processo, in questo itinerario. E poi tradurlo concretamente. Ricordavo prima i vari momenti del programma. Direi che questi sono gli ambiti nei quali, ecco, concretamente si deve incarnare questo programma. Allora, a cominciare dalla vita, la sacralità della vita, il rispetto della vita sempre e dovunque. Ecco. Poi il tema della dignità della persona e dei diritti della persona, ecco, dei diritti umani. Anche questo è un altro contesto nel quale bisogna lavorare concretamente, anche alla luce di tutte quelle violazioni che ci sono state nel passato. Il tema poi, ecco, ripeto, della riconciliazione. Anche qui è proprio saper creare, diciamo, ambiti e spazi dove le persone si riconciliano. Io ero in Colombia, l'anno scorso sono stato in Colombia appunto per la firma dell'accordo di pace tra il governo e le Farc e ho potuto incontrare alcune di queste belle realtà dove le vittime e gli aguzzini, in un certo senso, ecco, hanno cominciato a fare un cammino di riconciliazione. Quindi questo ovviamente è un motivo di grande speranza perché nonostante, come lei diceva, le ferite siano così profonde e così ancora doloranti e così aperte, ecco, però c'è la possibilità un po' alla volta di ricominciare a camminare in maniera diversa e poi alla fine, ecco, il tema, vivere la propria fede, vivere il tema della vocazione cristiana come discepolato del Signore, vivere la propria fede nella realtà di ogni giorno. Ecco, mi pare che queste sono delle indicazioni molto concrete che possono permettere poi di vivere quello che è lo spirito e le finalità di questa visita.